Oggi è un importante momento, la Confcommercio, i corpi intermedi, le associazioni di categoria sono quanto mai importanti in un mondo che cambia rapidamente. I piccoli esercenti, quelli che sono la linfa vitale del nostro territorio hanno bisogno di poter trovare un momento insieme ai loro rappresentanti per costruire quegli strumenti che servono ad affrontare nuove sfide e nuove opportunità. In questo territorio arriverà ad esempio la banda ultralarga come in tutta la regione, la rete delle ciclovie che collega al territorio, infrastrutture, materiali e immateriali attorno alle quali si sviluppa un'economia e spesso il singolo da solo non è in grado di cogliere tutte le opportunità che possono arrivare da un cambiamento così importante in termini di infrastrutture. La presenza del corpo intermedio che si organizza, che offre spazi riqualificati, che è in grado di accompagnare questa crescita, dà un contributo importante alla singola impresa e dal nostro punto di vista a tutto il territorio. L'economia è interconnessa, il terziario ha una funzione molto importante come valore aggiunto e come lavoro. Tutto quello che possiamo fare come impegno per dare opportunità di crescita trovano nelle società di categoria i naturali interlocutori. Ecco perché oggi era importante essere qui, essere presenti e dare un contributo a questa manifestazione.